Il Presidente invece del Consorzio di Bonifica Mar... Comune di Fano e Consorzio di Bonifica intensificano la loro interazione per una maggior pianificazione degli interventi sul fronte del degrado idrogeologico del comparto locale. Il comprensorio Foglia, Metauro e Cesano ha diversi sorvegliati speciali come il rio Crinaccio, dove è stata eseguita una prima tranche di lavori e dove presto ne sarà ultimata un'altra, e il fosso delle Caminate, dove un ponte aspetta da tempo di essere realizzato. Il rio Crinaccio riprenderanno brevi lavori per concludere quell'intervento che è stato sospeso per la sopravvenire della stagione estiva e sicuramente questa è una risposta. In più abbiamo anche previsto altri piccoli interventi, sempre in ambito urbano, di pulizia dei fossi in maniera tale che i nostri cittadini possono essere più sicuri. Il consorzio di bonifica in tutto questo ha un ruolo centrale perché fuori dalla parte urbana interviene il consorzio di bonifica e prende sia la contribuzione degli agricoltori sia la contribuzione dei cittadini tramite le aziende partecipate, quindi in questo caso l'ASET, e quindi ha un ruolo molto importante con la quale noi vorremmo rafforzare il rapporto. Pianificare è la parola chiave. Il consorzio ha speso nel bienio 2014-2015 6.700.000 euro e per il 2017 in questo settore sono previsti 1.132.000 euro di interventi. Ma il consorzio non dispone di fondi pubblici ma di proventi derivanti dal gettito. Quindi le scelte in materia di interventi vengono operate sulla base del rischio maggiore, ma i chilometri da tenere sotto osservazione sono davvero tanti, oltre 20.000. Ma il loro stato di salute al momento attuale qual è? Non diverso da quello di tutto il territorio regionale perché lo stato di abbandono del reticolo idraulico, soprattutto quello che noi definiamo minore, ma che spesso minore non è, è molto compromesso. Devo dire che a mio giudizio abbiamo voltato pagina perché con 2.000 interventi realizzati nel bienio abbiamo avuto modo di verificare quanto sia produttivo il sistema che abbiamo messo in campo. È una piattaforma di interlocuzione diretta con i cittadini che ovviamente ha il peso e il carico di dover rispondere a tutti, ma è una piattaforma con i voti. Noi diamo i voti a chi opera e chi ha segnalato dai voti a noi.